Meno 3 a quello che ora più che mai appare come quel banco di prova che tutti a Catania attendono con un entusiasmo tutto nuovo, un sentimento che ai piedi dell'Etna sembrava ormai dimenticato. La rivoluzione, tutta made in Italy, voluta dalla dirigenza rossa-azzurra, ha restituito fiducia all'ambiente e adesso tutti guardano alla prossima gara interna contro il Perugia con una trepidazione difficile da immaginare solo qualche giorno fa. Dopo la seconda doppia seduta consecutiva della settimana, oggi allenamento pomeridiano. Per il tecnico Dario Marcolin sarà difficile ipotizzare un 11 diverso da quello che lo scorso venerdì ha piegato la Provercelli al Massimino, un 11 italiano per 10 undicesimi che tutti si aspettano di rivedere all'opera anche sabato pomeriggio. Intanto sul fronte mercato il Catania non si ferma continuando a lavorare a pieno ritmo per perfezionare la rosa. In uscita ha risolto il rapporto contrattuale con Calello e ceduto Leto alla Nus. Si sta trattando con Lizebari la cessione di Ciani e con Verona e Chievo quella di Castro. Il Napoli starebbe invece seguendo con interesse Gionber, infortunatosi nel corso della prima parte di stagione e a disposizione però non prima di marzo. Ma attenzione a Martigno, oggi a Villa Stewart per alcuni controlli ma che potrebbe lasciare Catania, corteggiato da club come Cesena e Torino. Con quest'ultimo il club etneo ha da poco chiuso per l'estremo difensore belga Jean-François Gillet, colpo di mercato numero 8 per Pablo Cosentino che sta lavorando ancora sull'attacco. I nomi più caldi sono quelli di Acqua Fresca, appetito però anche dal Bari, ma ancora di più Insigne Junior, con la regina che però prima di cederlo cerca un sostituto. A breve si attendono aggiornamenti.